Bentornati a Trame Raccontate Male. Oggi raccontiamo male, malissimo, Ernani. Allora, al netto dell'ormai famosa regola di George Bernard Shaw, che qui viene rispettata in pieno, l'opera in generale, la commedia italiana e un po' tutta la letteratura di genere sono basate su un caposaldo narrativo. Lui, lei, l'altro. Qui però gli autori hanno voluto decisamente strafare e abbiamo lui, lei, l'altro e l'altro ancora. L'oggetto di tanta attenzione testosteronica è Elvira, una banalissima nobile donna di medio cabotaggio che evidentemente esacerne ferormoni in quantità industriale. Ma vediamoli questi pretendenti. Ernani, che ama Elvira ed è da lei ricambiato, e già dal fatto che è un tenore capiamo che l'opera finirà male. Silva, zio di Elvira, che delle gambe parentali se ne sbatte le palpebre e nonostante una robusta differenza di età sta per sposarla. E, niente poco di meno che, Carlo, re di Spagna. Trama. Ernani è a capo di un gruppo di rivoltosi che vuole rovesciare re Carlo. Ha quindi riunito un manipolo di scappati di casa che lo aiuterà nel golpe. Siamo nel castello di Silva, a cui Elvira è stata promessa sposa. Re Carlo Brama Elvira e le si attacca come una cozza allo scoglio, passando da un corteggiamento light fino alle soglie dello stalking. Elvira non ci sta per niente e parte con le solite scuse che usano le donne in questi frangenti. Esco da una storia di tre anni con un tipo, non sono alla tua altezza, ti vedo più come un amico. È tutto il repertorio di quelle scuse tanto patetiche quanto clamorosamente false che le donne ci sciorinano in questi casi. Lui però ha la testa di granito e decisamente non molla. Oh, inoltre il re e prendere due di picche da una cortigianella qualunque le dè decisamente la sua dignità. Passa quindi al corteggiamento 2.0, l'offerta di matrimonio. Ma Elvira sfinita sbotta! No, non te la do! La possibilità di sposarmi. Lui allora, ferito nel suo orgoglio maschile, pensa di passare al next level, le maniere forti. Ma lei resiste e come connico orleone brandisce un coltello. Arriva Hernani e Carlo si trova davanti il nemico perfetto, ovvero il rivoltoso che vuole dettronizzarlo e in più il suo rivale in amore. Due eccellenti ragioni per farlo giustiziare in qualche fantasiosa modalità. Meglio ancora se molto dolorosa. Invece Carlo gli concede magnanimamente di fuggire. Offerta che ovviamente Hernani rifiuta perché ha una pulzella da difendere. Una pulzella con tanto di coltello in mano, ma pur sempre una pulzella. Ricapitolando, Elvira è promessa sposa di Silva che però schifa. Ama Hernani e nel tempo libero rimbalza Carlo. Ora, come un noto rivoltoso ricercato e un re siano entrati nel castello di Silva senza che nessuno li notasse, resta un mistero che non verrà mai chiarito. Tipo Ustica. Sta di fatto che nella stanza entra Silva, il padrone di casa, e trova la sua promessa sposa attorniata da ben due pretendenti. A causa di evidenti problemi alla vista, infatti non gli hanno rinnovato la patente, non riconosce Carlo, che oltre ad essere il re è un attimo suo cugino. Da primo infuriato, abbassa la cresta solo quando riconosce in Carlo il re. Meglio tardi che mai. L'atto si chiude con Hernani che lascia il castello inspiegabilmente vivo. Secondo atto. Ve l'avevo detto che i rivoltosi erano degli scappati di casa e infatti il golpe fallisce miseramente. Hernani, travestito da pellegrino, chiede rifugio a Silva. Lui glielo dà e ovviamente non lo riconosce. Ora, perché non lo riconosce? Ve l'ho detto perché è vestito da pellegrino, con i tipici abiti di un pellegrino. Ma come è vestito un pellegrino? Cos'ha addosso? Una specie di scafandro per cui... Perché non lo si riconosce, un pellegrino? Non lo sappiamo, ma nell'opera è così. Pensate a quante trame abbiamo raccontato in cui basta un niente perché non ci si riconosca più. Pensiamo a Trovatore, a Don Giovanni, alla... E a molte altre. A dire tutta però anche Clark Kent si toglieva gli occhiali e diventava Superman e nessuno si accorgeva della somiglianza. Alla notizia delle sue imminenti nozze con Elvira, dove per imminenti intendo che lei ha già addosso l'abito della sposa. Hernani si svela e offre a Silva la sua testa. Perché? Silva ringrazia, guarda davvero come avessi accettato, ma rifiuta e gli assicura la sua protezione. Arriva Carlo, che non era invitato al matrimonio, quindi trattasi del classico imbucato, alla ricerca di Hernani. Silva però tiene fede alla parola data e protegge Hernani. E devo dire che Silva è sì l'antipatico di questa storia, ma qui gli do 100 punti di stima secchi. È perché Carlo gli smeriglia davvero i genitali con la carta vetrata. E dov'è Hernani? Lo so che lo stai nascondendo? Dimmi la verità? Guarda che fai tu una brutta fine? Ma Silva, rispettando la regola aurea di qualunque marito fidifrago, negare anche l'evidenza, alla fine rischia la testa ma la sfanga. Ti stimo fratello. Carlo, siccome non vuole andarsene a mani vuote, oltre ai confetti e una bomboniera, si porta via Elvira, che doveva sposarsi dopo un'ora e adesso dovrà rifare le partecipazioni. Silva è imbufalito perché ha già pagato sia l'open bar che il cantante neomelodico e vuole uccidere Hernani. Scusa, ma perché te la prendi con Hernani invece che con Carlo? Hai fatto tanto per proteggere Hernani, ti sei guadagnato la mia stima e adesso me lo vuoi ammazzare? Capisci che non ha molto senso? Sta di fatto che Silva sfida Hernani a duello, ma Hernani, giovane e forte, non vuole battersi con uno che ha l'età di Mattusalemme. Per procrastinare quindi il duello e per far anche calmare Silva, Hernani ha la soluzione. Gli dà un corno e gli dice che quando vorrà la sua vita gli appartiene. Dovrà solo suonarlo ed Hernani, seduta stante, si suiciderà. Genio! Lo so, qui Hernani si dimostra un clamoroso fallicocefalo, ma così è. Che poi io mi dico, Silva non ti ha consegnato a Carlo, ma questa non è una buona ragione perché la tua vita diventi sua. Forse Hernani confide che l'arteriosclerosi farà dimenticare a Silva la promessa, ma vedremo. Comunque sia, Silva ed Hernani decidono di allearsi temporaneamente per uccidere Carlo. Dopodiché penseranno alla questione tra loro due. Carlo però nel frattempo è diventato imperatore. E scoperta la cospirazione li condanna entrambi a morte, che mi sembra davvero il minimo sindacale. In genere, a questo punto della trama di un'opera lirica, il soprano promette di concedersi al baritono in cambio della vita dell'amato tenore. Qui invece Elvira va veramente di lusso, perché ottiene il massimo risultato col minimo sforzo. Ovvero con solo sei versi di numero ottiene la grazia per Hernani senza neanche dover pagare pedaggio. Non solo, Carlo è talmente di buon umore per essere stato nominato imperatore, che grazie anche Silva e concede a Hernani di sposarsi con Elvira. A questo punto la storia potrebbe anche finire qui, ma voi sapete bene che nel melodramma c'è una regola ancora più ferrea di quella di George Bernard Shaw. Uno straccio di morto lo dobbiamo avere. E qui finora non è morto ancora nessuno. Tornare quindi alla trama, sono tutti contenti, tranne Silva che medita vendetta. Ultima parte, Hernani e Elvira stanno finalmente per convolare a nozze. Elvira è tutta contenta perché è riuscita a riciclare le bomboniere del mancato matrimonio con Silva. Il regalo di matrimonio di Silva invece lascia un po' a desiderare. Si presenta infatti a palazzo e ricorda a Hernani la promessa di uccidersi quando lui avesse suonato il corno. È un gesso di estrema magnanimità però Silva gli fa scegliere tra il veleno e il pugnale. Tutti i tentativi di fargli cambiare idea sono vani. Ed Hernani, a cui tutto si potrà dire ma che non passerà la storia per essere un uomo che non tiene fede alla parola data, si trefigge col pugnale e muore. Iscrivetevi al canale adesso, altrimenti verrò a casa vostra e suonerò un corno. Ci vediamo alla prossima trama raccontata male.